Buongiorno raga, buon pomeriggio e buonasera Allora, sono le 5 praticamente, manca un minuto le 5 Io mi sono preparata, come potete vedere Scusate, questa roba però è il collare, come si può dire, il collo lì della maglia Ecco, non è una sciarpa E niente, qua ho il pc Perché adesso vado a fare la babysitter, quindi ho detto prendo dietro il pc Così dopo, quando non ho niente da fare, o comunque i bambini andranno a nanna Mi metterò a editare i video E niente, adesso devo andare, perché alle 5 incomincio, quindi adesso scendo Per fortuna che è sotto Vado e poi ci sentiamo dopo, non lo so Penso che ci sentiremo dopo che i bambini andranno a nanna Così non do fastidio E niente, comunque mio cugino è appena tornato Perché era andato a Verona appunto E appena tornato oggi Adesso credo che sia in palestra Perché non è più a casa È già andato via in palestra E quindi sì Io vado E ci sentiamo dopo Ecco Augurateli buona fortuna Starò dalle 5 fino a... Non si sa l'ora Ok raga, allora sono le 7.55 Ah, io sono qua a fare la baby stintere Però appunto, visto che i bambini Li ho lasciati a mangiare Ho colto l'occasione per venire a portare Cioppi fuori 5 minuti Adesso la porto su, mi bevo un bicchier d'acqua E torno giù dei bambini Ah, già Sono un po' gasati i bambini Un po' troppo Sono un po' eccitati Ecco Sì, Cioppi, anche tu sei un po' eccitato E niente ragazzi, ci vediamo dopo Ma sarà quello? A me sta copiando A 5? Ah, sono ancora a 5 È finito? Già, è niente Adesso è finita Sì, di 6 Sì, di 6 Allora raga, sono le 22.30 Chiudo la porta Ecco Ho messo i bambini a dormire a mezz'ora fa Adesso Facendo il pc Ok Ok Metto in carica Il pc Non ci arriva? Ok Sì, forse sì Ok Sì, ok Bene Tacco anche i tuoi cuffi Ok E niente raga Io mi metto qua A dare un video O tipo Un'ora e mezza Finché arriva La padrona Tanto c'è Anna che mi scrive Ecco Bene Dai, dai, dai Perché non ti muovi? Comunque sì Il cane è qui Cane No, no, no No, 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 no Stai lì Buono No Non saltarmi addosso N-O No, no Vai giù Cuccia Cuccia Fila Cuccia Mamma mia Cuccia 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 Qui 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 Seduto Seduto Sit down Giù 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 Non su Giù Seduto Buono Bravo Zampa Zampa Oh, ma allora siamo bravi Eh Bravo 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 Cuccia Stai lì Stai lì Ok Allora Ok Sì, sta ritornando Non gli piace la cuccia Ok Bene Io mi metto a editare un video E poi appena finisco lo carico E ci sentiamo dopo per gli aggiornamenti Insomma Grazie a tutti Allora raga Sono le 23 Le 28 Ho finito di editare Trasportando Per l'avviso di trasportarsi Carico Bella raga Ok Sono contenta Yes Bene il tempo di caricare E poi Me ne vado anche Perfetto Perfetto Intanto Adesso Sto Lo solito A Caffeggiare Tanto per Ok raga Allora sono le ore Mezzanotte 3 minuti Io sto giusto Preparando qua Il coso del pc Perché tra un po' Inballo il pc Comunque Sto caricando il video Manca poco Un quarto d'ora Massimo E niente Sto aspettando A che arrivi La padrona Mi sto un attimo Noiando Bella raga Allora ho finito Di caricare Il vlog Perché quando è arrivata La lucia La padrona Ecco Mancava tipo 15 minuti Circa Poi sono arrivata A casa Ho portato fuori Cioppi Sono venuta in camera E ho finito di caricare In questo momento Sono le 2 di notte E Niente Adesso vado a dormire Perché mi sto per addormentare Infatti ero col telefono in mano Guarda il mio video Su youtube E tra lì Così tipo E E niente Comunque domani C'ho da fare Soprattutto la mattina Perché devo andare A Trento Con mia mamma All'Itea Quindi mi tocco Svegliarmi presto Comunque abbastanza presto 15 Vado a dormire E niente Raga Pollicione su questo video Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Che trovate il link In descrizione E niente Non ci vediamo domani Con un nuovo video Bacioni A te C'è Sì